Si inaspriscono i controlli sugli orari di smaltimento dei rifiuti e sulle corrette modalità della raccolta differenziata. A salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano, il Comune schiera in campo la nuova squadra di ispettori ambientali ASIA, 30 unità che si aggiungono alle 10 già operative per multare chi sversa fuori orario o non differenzia la spazzatura. Oggi sono 10, ne abbiamo formati 40, io penso che il ruolo che loro sforgeranno sarà un ruolo significativo non solo di sensibilizzazione ma anche di miglioramento di quello che è il decoro della nostra città. L'attenzione in primis sulle attività produttive con sanzioni più elevate rispetto alle utenze domestiche ma controlli severi sono previsti anche per il conferimento di imballaggi in materiale edile ingombranti. L'obiettivo è quello soprattutto di verificare la correttezza del conferimento, il rispetto degli orari, la città pulita dipende ovviamente dall'efficienza dell'azienda ma anche dal rispetto delle regole da parte dei napoletani. Il nostro obiettivo è avere un sistema di vigilanza che sia efficace, partiamo con questi 40, poi verificheremo in base a quelle che sono le esigenze che derivano dal piano industriale di ASIA se c'è la necessità di formarne altri. A mantenere la città più pulita anche la nuova flotta di 177 automezzi ASIA a basso impatto ambientale con motore elettrico e bassa rumorosità sono stati presentati questa mattina in piazza Plebiscito e contribuiranno a garantire un servizio più efficiente di gestione dei rifiuti. Andremo a raccogliere i rifiuti riducendo quello che è l'impatto sull'ambiente in termini di emissioni climaalterande e riducendo quelli che sono i costi gestionali. Partiamo con un dato 2023 del 40%, abbiamo in previsione di arrivare al 45% nel 2024 rivisitando tutti i sistemi di raccolta differenziata in quasi tutte le municipalità. Partiremo soprattutto dal centro e poi nel 2025 ampleremo a tutte le altre municipalità i sistemi di raccolta porta a porta e stradale che abbiamo già sperimentato sulla sesta municipalità. Tra le iniziative di ASIA sulla raccolta differenziata la consegna di alcune coperte realizzate con indumenti usati raccolti dalla cooperativa Ambiente Solidale all'Associazione Ronda del Cuore che le distribuirà a Essenza Fissa di Mora. Io faccio sempre molto affidamento sulla collaborazione dei napoletani, una maggiore responsabilità aiuta ad avere una città migliore.